Ciao, io sono Ramona, lavoro al Club Family Hotel Executive a Cesenatico, sono la responsabile del reparto ricevimento e con me lavorano altre tre ragazze. Il mio primo impatto con Hotel CC è stato abbastanza importante, nel senso che ero abituata a fare il lavoro in altra maniera, quindi una risposta alle mail semplice, dove partivano comunque queste mail carica di contenuti e mi sono trovata a rapportarmi con un sistema di CRM molto notevole. All'inizio ero un po' titubante, ma poi devo dire che si è rilevato veramente una grande sorpresa. Hotel CC è stata per me una rivoluzione totale, sia nel mio modo di lavorare, ma anche proprio nel modo di approcciarmi con il cliente, perché con Hotel CC c'è la possibilità di seguire la persona che ti contatta dall'inizio fino alla fine, quindi dal primo contatto con un preventivo, una richiesta di preventiva o semplicemente per sapere dove siamo, fino ad arrivare al momento in cui te lo trovi qui in albergo. Ed è già come conoscerlo dai tempi del contatto. Tanto per cominciare il discorso appunto della riduzione della tempistica, quello per me importantissimo, quindi io alla fine della mia giornata, addirittura del mio turno lavorativo, sono in grado di andare via e di avere evaso comunque tutte le pratiche che ho, che ricevo, tutti i contatti, tutte le richieste, sia di preventivi, sia di prenotazioni e quant'altro. E poi l'idea di seguire il cliente dal primo contatto fino all'ultimo. Questa è una cosa veramente fantastica. Io ho il contatto del cliente, gli faccio il preventivo, magari lui accetta la mia prenotazione e poi continuo a seguirlo fino al momento del suo arrivo. Questo credo che sia, sia per noi i propri lavoratori, ma anche per le persone con cui entriamo in contatto, credo che sia una cosa fantastica perché loro non si sentono mai abbandonati. Se mi vogliono fare una richiesta c'è una chat praticissima, se mi vogliono chiamare ci sono i contatti telefonici in ogni punto dell'hotel CC. Se comunque vogliono avere delle informazioni entrano in questa offerta che è sempre online, che è una cosa non indifferente perché magari un contatto mail normale può essere cestinato, può essere eliminato, invece lì è sempre online, quindi loro entrano e mi fanno la loro domanda, la loro richiesta o anche se non mi vogliono salutare, molti comunque lo fanno. Hotel CC ha tantissimi punti di forza. Primo fra tutti la possibilità di presentare l'hotel nel migliore dei modi, ovvero ci sono dei template, un mini sito, viene veramente creato un mini sito dell'hotel. Questa è una cosa fantastica perché mentre prima c'erano soltanto un carico di informazioni, fogli scritti che comunque quasi per niente vengono letti, in questa maniera qua invece abbiamo un incontro grafico, quindi delle foto fantastiche che comunque vengono pubblicate e rendono l'idea di dove vai in vacanza o comunque di dove andrà insomma, sia della località sia proprio dell'albergo. Di dare tutte le informazioni importanti, tutte le informazioni necessarie e le informazioni che la gente cerca. Perché se mi contatto una persona con un bimbo di tre anni, gliene importa poco magari che io organizzo il torneo di calcetto in spiaggia, mentre magari gli può interessare che ho il pediatra in hotel. Quindi ho la possibilità di arrivare in maniera diretta al contatto con il cliente, a seconda di quello che lui mi chiede o di quello che cerca. E poi le azioni automatiche sono fantastiche perché io do il benvenuto a gente che deve arrivare in albergo e quando loro arrivano loro si sentono già di famiglia e noi siamo un club femmini, quindi questo per noi è il top. Sono molto entusiasta, cioè nel senso per me è stata veramente una rivelazione. Se qualcuno oggi mi dicesse no ma guarda non possiamo utilizzarlo, penso che cambierei lavoro, insomma mi dedico ad altro perché no non si può tornare indietro, si fa veramente fatica, però per me è stato veramente fantastico, ma non utilizzando un termine banale, è stato proprio ottimo per il mio lavoro. Abbiamo più tempo da dedicare al cliente. Quando io ho il cliente in casa, se ho 400 mail nel back office mi prende l'ansia, non riesco a gestirlo. Se io invece ho il cliente in casa e 20 mail da gestire della mia bellissima piattaforma, sinceramente penso di potermi andare a prendere anche un caffè con lui, insomma. Tutta la vita lo consiglierei perché comunque è veramente ottimo, un ottimo sistema. Lo consiglierei per vari motivi, uno fra questi la riduzione della tempistica di cui ho parlato prima però che per me è veramente rilevante e poi anche un aumento in termini di fatturato perché noi abbiamo avuto una conversione nettamente superiore rispetto a quelli degli anni precedenti. È vero che lavoriamo, siamo un gruppo di alberghi e lavoriamo sempre con il massimo dell'occupazione, però da quando utilizzo, utilizziamo Telcici io mi sono resa conto che la prenotazione, la conferma arriva in termini molto più rapidi rispetto a quello che era prima. E poi anche in termini di fatturato perché comunque lì c'è una proposta, la proposta viene accettata per come il margine di trattativa, cioè per carità perché c'è sempre, però comunque sia io credo di aver notato anche un miglioramento da quel punto di vista, perciò consigliato sì al 100%.